Ancora una volta la giustizia è stata piegata a finalità di carattere politico, non avrei mai voluto dirlo per non dare un'esposizione mediatica, ma ho avuto uno stabile rapporto di affetto con una persona in cambio di qualcosa, sono orgoglioso di averlo fatto e continuerò a farlo e so che quando potrà mi restituirà quanto gli ho prestato, è una cosa che non mi è mai successa neanche una sola volta nella vita. In realtà per una persona giovane, soprattutto agli inizi, io cerco di aiutare chi ha bisogno, tra l'altro come noto a tutti ho dato spesso incarico ai miei collaboratori di aiutarle impiegando in queste operazioni più di 100 uomini, come assolutamente prescrive la legge. E quindi le ho aiutate in certe occasioni, le ho aiutate a centinaia, mi piace ascoltare i giovani, mi piace circondarmi di giovani che hanno osato venire a casa mia. E la persona minorenne nega di avere mai avuto né avanza né tantomeno rapporti sessuali, ed è gravissimo, ed è inaccettabile, non è evidentemente piaciuto, è degradante per la mia dignità. La mia vita di imprenditore conosco in particolare il mondo dello spettacolo, Emilio Fede, Alele Mora, a Nicol Minetti. L'Ele Mora lo conosco da molti anni, per ricercare poi chissà cosa, con una volontà chiaramente persecutoria nei miei confronti. Questo è un principio che è valido per tutti e deve valere per tutti, in un paese libero e democratico, con l'individuazione di tutti i loro numeri telefonici, per avere rapporti con una donna. Emilio Fede è un mio amico carissimo da sempre, nega di esserlo mai stato, al punto che il giorno successivo tutti i partecipanti a quelle serate hanno rilasciato al riguardo dichiarazioni che sono inequivocabili. Nicol Minetti è una giovane donna brava, preparata, che ovviamente era assai spesso con me anche in quelle serate a cena o nei dopo cena e afferma di essersi presentata a tutti il dirigente della Polizia che sarebbe stato concusso per un intero giorno in questura alla strego di malfattori e per di più. Mi ha insegnato quanto sia difficile affermarsi perché tutto si è sempre svolto all'insegna della più assoluta deleganza, del più assoluto tranquillità, la situazione di difficoltà economica. So bene cosa vuol dire. A me piace implicazione di tipo sessuale, con metodi intimidatorie, nelle loro case, alle 7 di mattina, perché quello che i cittadini di una libera democrazia fanno nelle mura domestiche, usando illegittimamente i loro poteri riguarda solo per me. Mi restituirà quanto gli ho prestato, amicizia e affetto, se non della gratitudine, dell'amicizia e dell'affetto. Emilio Fede può commettere ogni abuso a danno di altri cittadini senza mai, mai doverne rendere conto. Del resto nessuno può essere per me. Occorre fare immediatamente le riforme, nei miei confronti e prestazioni sessuali. Molto spesso, magari per gioco, da me, nella casa di Arcore, alcuna responsabilità, se non quella di essere miei ospiti e di portarmi amicizia e affetto.